Tutto pronto per le notti dei Rasunie, prima tappa del Musè Eclatè che si svolgerà nei giorni 7, 8 e 9 dicembre in via Isonzo a Ponte Cagnano-Faiano. L'evento, che rievoca nel titolo l'antica famiglia etrusca vissuta a Ponte Cagnano nel VII secolo a.C., si svilupperà in tre notti all'insegna della convivialità del vino e del buon cibo. Il percorso, organizzato in collaborazione con Mestieri e Sapori, si snoderà nel centro della città, ripercorrendo i luoghi di importantissime scoperte archeologiche che attraverso il Museo Senza Limiti si intende riscoprire e valorizzare.